Tra tutti da Cristian Ticenza, come tu e blog, Andrea De Logu. Ciao ragazzi, un saluto a Facebook, Twitter, MySpace, Instagram. Instagram, certamente, LinkedIn, tutti i social network, tu dove mi trovi? Ma tu non ce l'ho. Ma tu non ce l'ho anche io, ti salutiamo. Io sono tutti i giorni, ma qui, ciao. Ti trovano tutti quanti dove, hai il tuo blog? E AndreaDeLogu.com, su tutti i social. Qualche anticipazione? Ancora non va, ma ho appena vinto un premio con Andrea Cedrona, sono felicissima. Complimenti Andrea e un saluto a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti.